Questo pomeriggio, giovedì 17 dicembre 2009, sono venuto a vedere una bellissima mostra di via Castina Vecchia 21, nella galleria Compagnia degli Androni, e la mostra è Biotecne, questa mostra che vedete è Biotecne 1, io l'ho dici a Silberti, tra l'altro c'è anche l'artista, a me piace molto avere in giro per mostrare, ecco l'artista, lo vediamo, mi stanno impugnendo i suoi ospiti, ecco Maurizio Di Donati, non ci riuscirà per i suoi ospiti, quindi l'ho benissimo le sue opere. Comunque la Compagnia degli Androni, venite a vedere questa mostra che è molto molto bella, si trova in via Castina Vecchia, è una mostra fatta da Maurizio Di Berti, www.mauriziotiberti.it, non ci vediamo velocemente, ma c'è da vederla analiticamente, però, noi ci vediamo tutti su www.mauriziotiberti.it.it.